bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi una bella dose di news per quello che riguarda l'ultimo giorno della season 3 di fortnite oramai ci siamo meno di 40 ore alla season 4 di questo capitolo 2 e giorno dopo giorno ovviamente stiamo scoprendo insieme un sacco di cose che ci fanno un pochettino capire quello che succederà abbiamo visto tanti teaser dedicati a marvel oggi chiuderemo il giro dei teaser perché non dovrebbero uscirne più in teoria parleremo soprattutto di tante tante supposizioni e anche alcune cose che vengono già anticipate per quello che riguarda la prossima season prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e non poteva che essere un post del dona ragazzi quando il dona pubblica lo xyuder ve lo fa vedere il donato mostarda riscrive happy anniversary cube quindi buon anniversario cubo for sketch of the cube ora whiteboard luglio 17 2018 kevin might be gun bat is not forgotten allora lui dice che innanzitutto è il secondo compleanno di kevin il cubo ci ricorderemo tutti il cubo gigante che apparve allora ai tempi dove c'era il deserto nella prima mappa sopra la cima di quella montagna anteceduto da un sacco di scariche di fulmini lui dice nell'ultima frase kevin might be gone forse kevin è andato ma nessuno se lo potrà dimenticare si parla tanto ragazzi di kevin se ne è parlato già tantissimo già all'inizio di questo capitolo perché abbiamo tutto foschi fumaioli che in poche parole è dedicato a kevin poi c'è anche proprio tutto il liquido viola quindi potrebbe essere semplicemente un elogio al cubo da parte del donato potrebbe nascondere qualcosa in più non lo sappiamo incrociamo le dita e chissà quello che succederà e diamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché invece arriva l'ultimo teaser di marvel questo si pensa sia l'ultimo non è ovviamente sicura come cosa he threatens the fate of all reality part 4 in fortnite game now lo vediamo veramente in questa immagine molto più definita e come vedete la u la lettera u nasconde al suo interno galactus quindi l'antagonista di thor il mangiatore di mondi così come è chiamato nel fumetto che fra pochi secondi andremo a leggere insieme e che ovviamente ha come scopo quello di distruggere il mondo che conosciamo quindi l'isola di fortnite tra l'altro parlando del fumetto dove ci eravamo fermati ieri molto semplice ieri eravamo fermi al fatto che thor dopo aver subito degli attacchi da parte di johnsy da parte della banana di lynx si rivolge direttamente al bombarolo lucente dicendo mi ricordo di te sappiamo ragazzi che l'effetto della mappa di fortnite non permette a nessuno di ricordare quello che sapeva in precedenza questo è il motivo del quale thor è completamente smemorato ma andiamo avanti e vediamo un pochettino che cosa dice sebbene i suoi ricordi siano stati cancellati dalle misteriosa energia dell'isola thor scatena i suoi fulmini e i suoi poteri divini anche se non ricorda è pur sempre un dio in qualsiasi altro luogo per i suoi nemici non sarebbe una buona idea affrontare un dio smarrito e qua lo vediamo ovviamente che va di prepotenza a liberarsi da lynx e da quello che succede ovviamente abbiamo già letto e come vedete ragazzi qui eravamo arrivati dove dice mi ricordo di te con il martellozzo che si schianta al suolo e crea un cratere veramente enorme quello che possiamo vedere tutti ovviamente vicino a borgo bislacco andiamo avanti con le pagine del libro ma qui in questo strano luogo ci sono altre questioni di cui preoccuparsi mentre da fondo alle sue forze di dio divenuto re per combattere e ritrovare anche solo per un istante i ricordi che gli sono stati sottratti veramente incredibile quello che succede e come vedete c'era il bombarolo lucente che lo stava chiamando thor volge gli occhi al cielo e vede il terrore divorare l'orizzonte in un tempo luminoso per la barba di odin è è così è per questo che sono qui per lui come vedete si gira e vede appunto questa figura che è terrorizzante e non poteva che essere galactus che vediamo in questa immagine galactus il divoratore di mondi safe indicando i corvi che come sappiamo i corvi di odin che ora appartengono a thor possono attraversare qualsiasi barriera dimensionale nel tempo che impiega una singola goccia di pioggia a cadere e questi corvi vengono direttamente indirizzati al luogo di origine di thor il messaggio di thor viene consegnato attraverso l'universo come un urlo sif presto thor ha bisogno di posso vedere attraverso i tuoi occhi e i suoi gli dice questa ragazza che in realtà è giunge alla guerriera sif un tempo inarrestabile figlia di asgard non temere risponderei direttamente a thor e come vedete ci fermiamo qua ragazzi quindi thor richiede l'aiuto di una nuova supereroina sif una guerriera che probabilmente vedremo in game e non ve lo dico tanto per dire ma ve lo dico in quanto the first female warrior of asgard la prima donna guerriera di asgard potrebbe essere molto probabilmente inclusa nel pass battaglia questo si legge nelle informazioni che stanno piano piano trapelando in queste ore e di informazioni ce ne sono veramente tantissime intanto vediamo prima di salutare il discorso dei teaser l'ultimo quindi come vedete thor meraviglioso in questo squarcio nella copertina ma se andiamo a vedere i codici sorgenti del sito di epic games è stato inserita questa cosa molto carina le abbiamo già lette queste stringhe herons alone won't save us technology alone won't save us rage alone won't save us justice alone won't save us gods or godness alone won't save us chaos alone won't save us deception alone won't save us e loyalty alone won't save us con sotto ragazzi formato dai caratteri la scritta marvel questo è ovviamente un chiaro riferimento a tutti i supereroi marvel queste stringhe di codice abbiamo già supposto che potrebbero indicare iron man tempesta hulk ant man ce ne sono davvero tantissimi e andando avanti con le curiosità la prima che ci viene al all'occhio è che epic games sembra che stia creando la skin di wolverill ma come una specie di skin a banana l'altro giorno avevo fatto vedere un cosplay di qualcuno oggi invece vi faccio vedere qualcosa di più carino se lo riesco a trovare intanto sappiamo che arriverà anche il midas flopper nella prossima season questo ovviamente è un'immagine semplicemente divertente che va a riprendere la capigliatura di midas no purtroppo non ho l'immagine della banana wolverine anche perché era un concept staremo a vedere dato che wolverine comunque si vocifera che possa rientrare possa arrivare anche lui dal dal mondo appunto di di asgard di tutto quello che concerne i supereroi marvel e questo che viene detto invece molto interessante there will be a marvel tor poi quindi arriverà una location dedicata a tor è come appunto è una location nominata ci sarà una skin di wolverine appunto a stile banana e comic books page will be found and collect in the map quindi arriveranno molto probabilmente delle nuove pagine del libro che saranno ottenibili trovandole in mappa e invece ragazzi eccola qua un concept veramente molto carino della wolverine pili ci sta ci sta tutto perché è davvero molto simile a quello che potrebbe essere la skin ufficiale staremo ovviamente a vedere ultima notizia dicono anche groot is gonna be a battle pass skin per chi non lo sapesse groot è questo esserino che non è assolutamente grande che fa parte anche lui dell'universo marvel si parla e si dice che possa essere nel pass battaglia molti invece dicono che potrebbe essere un famiglio quindi un uno zainetto come quello che è stato l'omino pan di zenzero insomma ragazzi oramai il tempo è giunto ancora qualche ora di pazienza ed entriamo nella season 4 io la trasmetterò insieme a voi dalle 8 su twitch voi potete comunque vedermi già adesso in live su twitch mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un bel like e noi ci vediamo presto ciao ciao